Cari fratelli e sorelle, amici ed amiche, ancora con voi il vostro Don Giuseppe, dai microfoni di Radio Vacanze, per questo nostro settimanale appuntamento con la Parola di Dio. Domenica prossima è Pasqua. Pasqua significa passaggio. Passaggio da cosa? E verso dove? Dalla schiavitù alla libertà, dal peccato alla grazia, dalla morte alla vita, dal terrore all'amore. Come cristiani siamo chiamati a compiere questo passaggio, ma attraverso una persona, Gesù Cristo, che è, come ci dice l'Apostolo Paolo, la nostra Pasqua, il nostro passaggio verso una vita nuova, verso una mentalità nuova. Tutti noi siamo ancora profondamente scossi e addolorati per questa ulteriore strage che ha colpito l'Europa, uccidendo nostri fratelli e ferendone altri. Ma dobbiamo anche essere colpiti dalle motivazioni che portano a tale stragi. Le stragi e il terrorismo che stiamo vivendo e che ci atterriscono sono frutto di una cultura di odio, di rancore, di violenza, di ingiustizie, di vendetta, di chiusure, di mancanza di fraternità, nella quale ultimamente siamo totalmente immersi e che anche inconsapevolmente, e senza accorgercene, contribuiamo a realizzare. Papa Benedetto XVI ebbe a dire che l'uomo senza Dio diventa meno uomo, meno umano, e Papa Francesco ha più riprese, ha tonato, dicendo che non c'è morte e cultura di morte nei credenti e che non si ammazza in nome di Dio. Ricordiamo le chiari ed inimpevocabili parole dell'Apostolo Giovanni, quando dice dove c'è odio e rancore non c'è Dio. E ancora chi ama è generato da Dio e conosce Dio, chi non ama non ha conosciuto Dio. Non ci sono dubbi di sorta alcuna. Allora è vero, è Pasqua. E' la Pasqua del Signore, ma deve diventare anche la nostra Pasqua. Dobbiamo compiere questo passaggio e dobbiamo comprendere che possiamo risorgere da questa situazione e cultura di morte, impegnandoci per la vita e per una cultura di vita, attraverso il rispetto reciproco, l'amore e non l'odio, la fraternità e non la vendetta, superando barriere razziali e religiose, e praticando l'accoglienza e la solidarietà, e impegnandoci per una giustizia sociale. Cari fratelli e sorelle, auguro a tutti voi una Santa Pasqua di risurrezione e di vita, sempre dal vostro Don Giuseppe, ancora dai microfoni di Radio Vacanze Roma. Buona Pasqua.